let's go benvenuti a questo tips and tricks video in cui vi spiegherò come poter fare degli slide più lunghi o comunque più veloci e come poter mantenere una certa velocità già avevo fatto comunque un video precedente in cui spiegavo come poter fare come poter diciamo essere più veloci della corsa normale cioè facendo slide in continuazione ogni volta che si ricarica la batteria cioè il fuel la carica come volete chiamarla dei post bruciatori e ora vi spiegherò come poter accelerare ancora di più allora come vedete vi basterà fare un dash e continuare a sprintare in aria guardate che boost ho ottenuto solamente con una scivolata questo perché quando siete sopra un oggetto quando siete sopra a un diciamo a un piano a un qualcosa vi basterà fare una scivolata per potenziare la vostra velocità e quindi essere più veloci in questo modo potrete comunque pushare diverse zone velocemente potrete buttarvi da un'altura perché facciamo conto che qualcuno miri qui sopra voi uscendo in questo caso scivolando così sorprendete l'avversario primo perché sarete troppo veloci per la sua sensibilità sapete benissimo che comunque la maggior parte dei giocatori gioca con sensibilità basse quindi potrete sicuramente sfruttare questa cosa guardate dove sono arrivato solo con un bus con un bars cioè sono arrivato velocissimo praticamente nella terza postazione p3 come viene chiamata e niente e tutto questo con solo una scivolata e qualche saltello quindi cosa dovete fare quando siete sopra un oggetto tipo pure questo va bene un oggetto qualsiasi non importa quale basta che sia un qualcosa comunque che sia più in alto rispetto al livello del terreno fate una scivolata e cercate con la scivolata di arrivare fuori dal come si dice dai bordi di questa di questo oggetto di questo piano in modo così da accelerare la vostra velocità io spero vi sia piaciuto questo video spero vi possa aiutare perché queste sono piccole cose che magari in partita possono fare la differenza perché vi possono permettere magari di non morire in determinate situazioni di scrivere determinati colpi o comunque di essere più veloci e specialmente se uno ha l'applink questa cosa è ottima perché vi consente comunque di sbrigarvi di accelerare in determinati punti specialmente come qui al centro della mappa o qui sopra su combine perché come vedete qui voi potrete tranquillamente scattare in qualsiasi direzione cioè uno volendo può fare pure questo come ho fatto ora io dovete solamente impararvi a sfruttare quello che è la mappa e i vari punti spero vi possa aver aiutato questo video butchess io vi saluto sono power il vostro giocatore preferito let's go